L'anticiclone presente sull'Italia si va ritirando verso l'Africa per l'avvicinamento di una debole depressione atlantica che genererà appunto una depressione sul centro-sud dell'Italia. Sulla nostra regione giungeranno invece correnti nord-occidentali a tratti umidi in quota. Per sabato prevediamo inizialmente cielo nuvoloso sulla regione, poi cielo da sereno a poco nuvoloso quasi ovunque, tranne forse una maggiore variabilità sulle zone orientali e lungo la costa. Temperature massime attorno ai 10 gradi. Per domenica, tempo discreto in montagna con cielo in genere poco nuvoloso per delle velature che giungeranno da ovest da partire dal pomeriggio. Su bassa pedore costa invece maggiore nuvolosità con cielo nuvoloso coperto e lungo la costa non esclusa anche verso sera qualche debole più vigine. Temperature massime ancora attorno ai 10 gradi. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto.